Devo vedere tutti ragazzi, finalmente ci risiamo con le mitiche e le bellissime Oggi vi facciamo vedere il mitico Bestie Cristallo Un altro mazzo veramente straordinario e superbo che tanti di voi ci hanno sempre chiesto Benissimo, ve lo facciamo vedere Ricordate che chiaramente ragazzi siete nel canale degli over Quindi questa è la lista migliore, perlomeno nel nostro piccolo Che noi stiamo utilizzando e che ci sta facendo fare molto molto risultato E nei tornei, chiaramente dove la stiamo giocando Anche nelle competizioni grandi, internazionali, online Insomma non ti resta che iscriverti, che cliccare sulla campanellina Nel vedere tutte le nostre playlist per fare una scorpacciata di super contenuti Di Yu-Gi-Oh! dei TCG e di tutto quello che vuoi Andiamo a vedere come va a funzionare questo super mazzo E poi andremo ad approfondire anche come per esempio tu potresti anche ottenerlo Perché so benissimo, io lo so benissimo che quello che ti interessa a te È capire come funzionano i mazzi e magari perché no giocare ed essere il campione del mondo Ovviamente, capiamo benissimo questo, non fa niente che tu hai queste ambizioni O meglio fa e fa bene perché è bellissimo averle Sapete benissimo che noi ci rivolgiamo a due lanti pro ricchi Che soprattutto vogliono investire nella loro formazione, nel loro mazzo Perché vogliono essere sinceramente, lealmente i più cazzo di forti Nella loro fumetteria, nel loro contesto Benissimo, noi vi diamo le tra virgolette, gli attributi Ecco, non voglio utilizzare parole che YouTube poi ci va a togliere E poi li utilizzate, ok Entra Ferrir perché non controlliamo nessun mostro In effetti aggiungiamo un altro Ferrir, quindi veramente molto molto bene Utilizziamo legame cristallo per le bestia cristallo Sono usciti tanti tanti supporti Quindi tu hai praticamente tutte le carte che vuoi Per andare a utilizzare questi super mazzo Aggiungiamo un bestia cristallo e mettiamo un mostro bestia cristallo Direttamente dal deck Nella nostra zona mangiata da polla Bestia cristallo tra qualche baleno Tra un po' trovo da spiegare perché è veramente fortissimo Effetto può essere bannato per andare ad evocare un bestia cristallo Direttamente dal mazzo Ma andiamo a negare il suo effetto e aggiungiamo nella mano Scusate ragazzi Scusate, guardate che bellezza signori Mamma mia, ti posso assicurare che avere nelle mani queste carte È ancora meglio Questo poi da Taev È addirittura Ghost Quindi Buff, mamma mia ragazzi Che bellezza Andiamo ad evocare il drago arcobaleno Che è parimenti come il drago arcobaleno molto forte Il peccasolo zaffiro Che va a metterci direttamente nella zona mangiata Per la bevessa cristallo drago arcobaleno E stagliamo la partita con numero 41 Bagusca e il tapiro terribilmente stanco Finchè c'è lui sul terreno Tutti i mostri sono in posizione di difesa Non possono attivare il loro effetto Bellissima skill drain Che ci va a far stallare E noi comunque potremmo andare Abbiamo, ce ne può essere solo uno Che adesso è limitata ad uno Abbiamo Talento Tattiche Triples Nel caso l'avversario si rigiri Con qualche effetto carta Che ci dà molto fastidio Abbiamo un altro Ferrill per ricominciare Però osserva come con questo mazzo Sei equipaggiato per tutte le varie situazioni A me piacciono molto questi mazzi Che scombano da un lato E dall'altro Ti danno tante possibilità di vittoria Ovviamente possiamo andare ad approfondire E ancor di più Ma non è questa la sede Adesso andiamo a vedere Come funziona contro gli altri mazzi Allora siamo contro l'Abrint Un mazzo veramente straordinario E fortissimo Che ci va ad acchittare il suo terreno Ok ce ne può essere solo uno Tranquillamente L'avversario Come funziona l'Abrint? Tante trappole Vado ad utilizzare trappole Per andare a mettere dei mostri Molto forti sul terreno Che poi attaccano E ti fanno Ti fanno secco Però non ce ne può essere solo uno Che forza ad avere solo un tipo di mosto Per esempio lui è demone Può avere solamente un demone sul terreno Praticamente è finita Ok andiamo a ricominciare Quindi andiamo a riutilizzare Già della Prosperità Una carta ormai completamente imprescindibile Molto costosa certamente Ma ovviamente A Yu-Gi-Oh lo sappiamo bene Economico È sinonimo di scarso Abbiamo a utilizzare Bestia Cristallo Per caso Giaffiro E andiamo con L'Accademia del Duellante Questa è una carta che poche volte Si vede nelle build Del Bestia Cristallo Ma ovviamente signori Cioè sapete benissimo Che noi Ciò che facciamo vedere Sul nostro Cioè le liste che noi diamo Non sono né copiate da internet Né non studiate Né sono quelle liste Che vabbè Vediamo quello che succede No Sono liste che sono studiate Su cui ci si perde Il sonno Vuoi credermi Non vuoi credermi Onestamente La cosa non mi interessa Io vi dico da uomo di scienza Ciò che per me 2 più 2 fa 4 Poi ovviamente È il campo È il terreno Che va a provare Se quello che sto dicendo è vero O se sono Panzane apocalittiche Effetto di ferry Per andare ad aggiungere un altro ferry Effetto di Accademia del Duellante Guardate quanto è forte Cioè Se ci sono delle carte sul terreno Possiamo far guadagnare A dei mostri 1000 di attacco Nel nostro caso Contestual Specifico Ovviamente Nel caso avessimo mostri di altri tipi Insomma sarebbe successo diversamente Ok Attacchiamo con ferry Con l'effetto Quando attacco Quando vede l'attivarsi Dell'effetto di un mostro Possiamo andare a bannare coperto Una scoperta Sul terreno Perdonate il gioco di parole Quindi attacchiamo l'avversario Vedete Benvenuto la brinto Vado ad evocare tranquillamente Questa signorina Molto bella Per carità Una waifu Che tutti sognano Nel loro sogni Più vivaci Ma che è Molto molto cattivo Una 2000 Benissimo Nessun problema Passiamo il turno All'avversario L'avversario utilizza effetto Va a mettere la punizione dogmatica Sul terreno Ha utilizzato effetto Effetto di ferry La bagniamo coperto Ed effetto di accademia Del duellante L'avversario Attenzione va a rimettere Benvenuto la brinto Vado ad evocare la brinto Orcidemon Anche questo Questo forse è un po' più cattivo Bene Attacca Bagusca Quindi via Nosso turno E si ricomincia Osserva a livello di Numerico Di carte sul terreno Come l'avversario Sta messo molto peggio Rispetto a noi Guarda come paga A volte Non il semplice vomitare Sul terreno Tantissime carte Ma L'andare a studiare Millimetricamente L'avversario Accumulando risorse Nella mano Per poi andarla Ad utilizzare Dopo Ponte arcobaleno L'avversario utilizza Punizione dogmatica Va a mandare al cimitero Una carta Dall'extra deck Ci va a distruggere Un mosso Ci distrugge Ferrero Ok Molto molto bravo Si utilizza a questo punto Effetto Di vari mostri Al cimitero Noi utilizziamo In concatenazione No? Perché questa è una carta rapida Ora non voglio renderla troppo troppo difficile Pesante Con i vari effetti Alla tifone Spaziale mistico Semplicemente Noi abbiamo priorità Di utilizzare questa carta Incatenandola Alle due interazioni Che l'avversario ci ha attivato No? Benissimo In parole ancora più povere Questa carta si attiva prima Quindi utilizziamo lei Per andare ad evocare Carbon Rubino L'avversario rimanda in mano E soprattutto risetta No? La bellissima Arcobalena E noi utilizziamo Talento Tattiche triple Nel caso l'avversario In questo turno Ha utilizzato l'effetto di un mosso Noi possiamo utilizzare Uno di questi effetti In questo caso prendiamo il controllo Di un mostro Controllato dall'avversario Fino all'end face Ed eccolo qui Nessun più battle face A questo punto l'avversario Mi riutilizza Benvenuto labirinto Guardate quanto è forte Gli bastano delle semplici Carte trappola Per andare a produrre Sul terreno Mostri molto forti No problem Attacchiamo Disfruttiamo back jack Effetto Di back jack L'avversario mi fa mandare al cimitero Noi attacchiamo Con il nostro zaffiro Che è arrivato a 3800 Dove lo trovi tu? Una build Che ti fa arrivare Pegaso zaffiro A 3800 Dove la vai a trovare? Dimmelo Dimmelo Adesso poi utilizzo IP mascherina Sul terreno E si gioca L'avversario è rimasto Veramente con poche carte Nella mano Utilizzo l'effetto di IP mascherina Per andare a fabbricare Sul terreno Nightmare unicorn Effetto scarto una carta E vado a rimbalzare Una sul terreno L'avversario mi riutilizza Benvenuto labirinto Adesso mette La terza boss No ce li ha utilizzati Praticamente tutti Il nostro bestie cristal È rimasto praticamente indomito Entra la signora labirinto Del castello Tanto tanto fuori Va bene No problem Potenziamo il nostro Unicorno Grazie ad accademia del duellante L'avversario ovviamente Si va a proteggere Ecco con punizione dogmatica Attenzione E andiamo a mettere sul terreno Anche Tigre Topazio L'avversario Voleva andarcela a distruggere Ma Tigre è andata Grazie al suo effetto Prioritariamente Utilizzato nella zona Maggio e Trappole Manda al cimitero quindi No? Mostri che vanno ad applicare L'effetto E ovviamente benvenuto Labirintosi A rimettere sul terreno Ancora la talento Dattiche triple Carta molto molto forte Ci permette di Prendere Di rubare Del castello Lo andiamo a distruggere L'avversario ci va a rimandare Nell'extra deck Grazie alla distruzione Di Labirinto Candragliere Il nostro Unicorno E ufficialmente tu potresti dire Anto ma adesso è un problema Perché comunque Se senza carta Nessun problema Ti ricordi quando prima Abbiamo accumulato i Fenrir Nella mano Benissimo Entra Ferri No problem L'avversario va a utilizzare Prima dispositivo Di salvataggio obbligatorio Per far tornare il Fenrir Nella mano Poi benvenuto a Labirinto In cui va a evocare Arianna Che è il suo starter principale No? Questa è la carta Che normalmente In questo mazzo Si va ad evocare per prima Per attivare un effetto Ti fa aggiungere una carta Labirinto Dal deck alla mano Insomma Tanta tanta bella roba E quindi va a settare Risetta ancora il benvenuto a Labirinto Va a rimettere sul terreno La sua Labirinto Labirinto Che è una carta molto forte No? Ogni volta che utilizzi Una trappola normale Distrugge una carta sul terreno E gli permette di fare L'avversario Comunque bravo Stiamo giocando anche con un mazzo meta Cioè come ripeto Come ripeto in ogni video Noi giochiamo sempre Contro mazzi Che sono molto molto forti Chiaramente Se ancora non lo sapete Noi possiamo fornirvi I mazzi che andate a vedere Molte persone ci dicono Sempre Anto ma io ho visto nel video Quella carta che è bellissima Che è fortissima Quel mazzo Ok io devo andare A terminare il mio mazzo Oppure vorrei il mazzo Che tu hai fatto vedere Vorrei il mazzo Trego bianco occhi blu Mago nero Vestia cristallo Cash tira Antometa Quello che vuoi Benissimo C'è una modalità E qual è questa modalità Guarda sotto in descrizione Nel messaggio pinnato in alto Vai a cliccare Sul link che vedi E contattaci sui vari social Che vuoi Puoi contattarci su facebook Su telegram Su kiktok Dovunque tu vuoi Ci dici Ragazzi Io vorrei questo mazzo Vorrei quest'altro mazzo Quello che vuoi Noi te lo mandiamo E in più Possiamo anche Fare entrare Se Superi il provino Nel gruppo dei campioni over O se è il nostro gruppo Di supporto e consulenza Dove c'è l'allenatore privato Che è un tuo maggiordomo Che è praticamente Sempre alle tue dipendenze Tanta tanta roba Ma adesso andiamo a vedere Questa partita Come si va a sfangare Ok Entra di nuovo ferrier L'avversario ci utilizza Barriera dimensionale Grazie a cui non possiamo evocare Mostri Xyz per il resto del turno Nessun problema Andiamo a mettere punta Arcobaleno del cuore Una carta molto forte Che con l'effetto ci Andava a fare evocare un mostro L'avversario però ci utilizza Fioritura di cenere Non succede nulla Bene Effetto di ferrier Vado a bannare una coperta Bene Lui va a 3400 Guardate quanto è risolutivo E quanto è fortale E quanto va a potenziare i nostri mostri Tanta roba No l'avversario pesca Ma ormai non ha praticamente più carte Nella modena Possiamo continuare tranquillamente A questo punto Utilizziamo effetto L'avversario attenzione Vado ad utilizzare Prigione del drago di ghiaccio Ci ruba un mostro dal cimitero E poi ne banna due Sul terreno Quindi via Ai 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 Che cosa potremmo mandare a fare Effetto di ariano Noi però andiamo a utilizzare Risveglio del finale Delle bestia cristallo Evochiamo carbon Col rubino Guarda l'avversario Come è andato a riciclare Tutte le sue carte trappola Tanta roba Tanta tanta roba Cioè l'avversario ha venduto Venduto veramente cara La pelle è ancora Con Prigione del drago di ghiaccio Ci va a rubare Un bestia cristallo Distruggere carte Vado ad utilizzare Ancora benvenuto Labyrintho Con cui fa tornare Nella mano Il nostro drago arcobaleno Molto forte Il nostro avversario Battleface Fa distruggere Ma noi Siccome il nostro mostro Viene attaccato E vogliamo dare bestia cristallo Drago arcobaleno Guardate che belle partite Che si vanno a vivere Con i mazzi degli over E soprattutto con il bestia cristallo Ma vogliamo farlo Un applauso al bestia cristallo Guardate che bellezza Veramente Ancora Ponte arcobaleno del cuore Effetto Andiamo ad aggiungere Drago arcobaleno Con la ponte arcobaleno Mettiamo carbon call Con l'effetto Andiamo a riprodurre Pegaso zaffiro Effetto di Pegaso Va a far entrare Accademia del duellante Potenzia Pegaso E quindi effetto Di montarcobaleno del cuore Va a tornare Della mano ad Arianna All'avversario Ancora A questo punto Che succede E beh Attacchiamo Aia Alla fine Ai punti Andiamo a vincere Non è veramente tanta Tanta roba Effetto Di miracolo cristallo Attivato una carta Maggiore trappolo L'effetto di un mostro Distruggiamo una carta Bestia cristallo E annulliamo l'attivazione Distruggiamo una carta Se non più carte Bestia cristallo Vengono messe Nella zona maggiore trappolo Bandere questa carta Nel cimitero Durante il demogistro Possiamo bandere questa carta E mettere un bestia cristallo Da mano Ed ecco il cimitero Scoperto nella zona maggiore trappolo Tanta roba Appunto arcobaleno L'avversario riutilizza Benvenuto labirinto Battleface Non si arrende O meglio si arrende Perché va a sfasciare Il suo mostro Contro il nostro Guarda quello che è successo L'avversario ha venduto Cara la pelle Sulla carta Era anche più forte Il mazzo labirinto Andiamo a vedere Tutto quello che va a succedere Allora Andiamo ad evocare Pegaso zaffiro L'avversario ce lo va a negare Perfettamente Ok Ancora regola d'oro Comunque andiamo a settare O meglio A scoprire Settando Un po' un gioco di parole strano Le nostre bellissime Bestia cristallo Andiamo ad evocare Sul terra ancora Carbon col rubino E fattori carbon col Andiamo a far entrare Tutte le nostre carte Bestia cristallo Quella si è perpetrata Nella maniera Veramente più perfetta Questo è quello che vuole andare a fare Il mazzo bestia cristallo Cioè Tramite le scammotage Di mettere delle carte Mostro Scoperte nella zona Magia e trappole Siccome fossero Magie o trappole Evocandole successivamente Noi andiamo a piazzare Molti mossi sul terreno Tutto questo Andando a far entrare Ancora più Carte bestia cristallo La personale che utilizza Guardate quante carte C'ha utilizzato Già due belle interruzioni Nessun problema Bene Dugares non è successo Andiamo a far entrare Tartaruga A questo punto andiamo a far entrare Zelantis Questa è una carta che Soprattutto chi gioca Molto competitivamente A Yu-Gi-Oh Conosce bene Questa carta anche per giocare Altri mazzi Non solo il Fire King Quindi state tranquilli Quindi andiamo con Zelantis Effetto Va a rientrare sul terreno Dopo aver bannato Tutte le varie carte Quindi entra ancora Pegasso Zaffiro Utilizziamo tentazione cristallo Qui abbiamo sbagliato Perché l'abbiamo utilizzata In una zona che era Già stata colpita Dall'imperponenza infinita Quindi my bad Ok Già della prosperità Potremmo ad aggiungere Un'altra carta Che poche volte Sino Negli impasti Della bestia cristallo Bene Nessun problema Come vi dicevo Sempre nel nostro build Sono fatte Non netdeccando Non copiando nessuno E soprattutto In maniera studiata Perché siamo abituati A non dare fuffa Alle persone che ci seguono Andiamo a mettere sul terreno Dragutensile ragazzi Eeeh Questo è anche un mostro stranino E' benissimo Perché? Perché andiamo a creare In ultima analisi Dragosincro Alla cristallo Che serve tutto questo Ambaradam Che è stato messo sul terreno Chiaramente per chi vuole approfondire Chi vuole vedere la combo Perché non ha capito bene dal video C'è il gruppo dei campioni over Signori Guardate sotto in descrizione Tranquilli Entrate Entrate nel servizio over Sia che vi interessi tanto Di Yu-Gi-Oh Sia che vi interessi poco Vi assicuro che Essere con una persona Che vi guida È il massimo Che anche a livello mentale Ci fa godere di più il gioco Quindi veramente Non fate i barboni E soprattutto Se siete adatti Chiaramente Al nostro canale Ai nostri video Al nostro target Investite in voi stessi La vita è solamente una E non si torna indietro E parlo per esperienza personale A questo punto l'avversario Utilizza Attenzione L'incuribuma non riesce Perché viene negato Da Dragosincro Alla cristallo Attacchiamo 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 Andiamo a vincere Praticamente Chi avevamo sul terreno Avevamo Dragosincro Alla cristallo Che praticamente Combatteva con un mostro più forte Di 5 stelle Si autonestava Andando a conquistare L'attacco del mostro Con cui combatteva Sempre lui Riusciva a Negare e distruggere I mostri che applicavano L'effetto E poi ovviamente Abbiamo anche Zelantis Che insomma È Zelantis Detto questo Vi faccio vedere Il mazzo bestia cristallo Dalla zona dell'avversario Ok esattamente Dal field avversario Giocavamo contro Un Antometa E guardate quello che c'era Nella mano Cioè guardate Mostro che impediva Le vocazioni speciali Mostro per andare a riprendere Un board Veramente ben fornito Che riusciva A tributare Fino a tre mossi Sul terreno dell'avversario Anzi che cosa sto dicendo Tre precisi E poi ovviamente L'Ispettore Cavalcantavola Che negava Qualsiasi tipo di effetto Lui ci ha messo L'Ispettore Cavalcantavola Giudizio solenne Per andare a negare Lo starter E poi scontro A darmi pari Se la roba fosse andata Io ho messo Il Pegaso Zaffiro Negato immediatamente Altro Pegaso Zaffiro Quindi con l'effetto Ho aggiunto Nella mano Legame di cristallo Effetto Ho rimandato Nella mano L'Ispettore Cavalcantavola Quindi con l'Arcobaleno Legame di cristallo Con cui ho aggiunto Carbonclo E ho messo Sul terreno D'Arcobaleno Effetto Bannato Io ho evocato Tartaruga Ho aggiunto Nella mano D'Arcobaleno Settato sul terreno L'avversario Mi è andato a riprendere E intanto c'era Il conclave cristallo Già della Prodica l'età Con cui ho pescato Due carte Tra l'altro Aveva nella mano Anche spezia Evocazione Una carta veramente Fortissima Che le persone Ignorantemente Non vanno a mettere Nella loro build Antometa Ma è veramente Fortissima Ascolta Darmi i pari Benissimo Negà Come dire Bandite Completamente coperte Tutte le varie carte Che erano sul terreno Se neanche Io non fossi rimasto Con una sola carta L'Aspettore Cavalcantano La spezia vocazione Guarda come l'avversario Feva completamente Ripreso in mano La partita Benissimo Ho messo Pegaso Zaffiro Guardate come io Mi ero avvicinato Pericolosamente A tre mostri sul terreno Ancora un'altra prodigalità C'è l'avversario Feva sto mondo E quell'altro Ha preso anche due Ce ne può essere solo uno E considerate che Ce ne può essere solo uno È limitata ad uno Quindi pensate a quanto Era overpowered Il deck dell'avversario Adesso ci aveva messo Anche Pachicefalosauro fossile Con cui Io non avrei più potuto Evocare specialmente Cioè Era fatta praticamente Perché La cosa bella Ciò che ha salvato il mondo È che lei Smeraldo Questo piccolo vecchietto Fosse a 2000 in difesa E fosse messo proprio In difesa Tanta tanta roba Ok A questo punto si è ricominciato Con il risveglio Dei finali cristallo Con cui Ho aggiunto Le varie carte Che servivano A questo punto Tu puoi Andare a In queste situazioni Mettere Ponte arcobaleno del cuore Legame cristallo Ancora con cui Aggiungi Poi Rimetti nella mano L'ispettore che va al cantavo Ancora Ponte arcobaleno Si evoca Vese cristallo Mamutambra Ed è stato evocato Dashar eroe del destino Anche qui Adesso molti di voi Sono sicuro Stanno storcendo Il naso Stanno dicendo Questa versione strana Addirittura con Dashar Con gli eroi del destino Che succede E beh questo succede Lui è un mostro molto potente Che può offrire come tributo Un mostro E questa carta Guadagna mille attacco Fino alla fine del turno In queste situazioni È veramente molto molto forte La situazione è stata spangata Messo in difesa A questo punto E beh era comunque un problema Perché guardate l'avversario Quanto era forte il deck Stiamo giocando contro Antometa ragazzi Cioè questo è comunque Uno dei deck più forti Di Yu-Gi-Oh Evergreen tra l'altro Quindi è sempre rimasto Nel corso del tempo Di questa portata E se non ci credi Vai a vedere i video Che abbiamo prodotto Veramente tanta roba A questo punto Ha evocato anche Eppuratore della radianza In questo modo Tutte le carte Mandate al cimitero Sarebbero state invece bannate Bene Molto molto bene Ispettore Cavalcantavola Attaccato Noi siamo riusciti A rimandare nella mano Banisher Perché assolutamente Non dovevamo far sì Che le nostre Le nostre carte al cimitero Fossero bannate Ho ricominciato con Ponte Ho aggiunto Tentazione Quindi Tentazione Mi ha fatto evocare Un Bestia Cristallo E Turbine Gemelli Scarto e distruggo Due carte sul terreno Maggio Traffa Tanta roba Turbine Gemelli Questa anche È una tech Che non viene giocata Bisogna giocarla Perché soprattutto In questo momento In Tettatam In cui ci sono A parte il Tempai Che comunque è bloccabile In altri modi Anzi Quindi abbiamo Cilindro Magico Piuttosto che Cioè ritornano le forze Riflessa praticamente Ma le altre Componenti In deck Di questo formato Utilizzano tante magie Traffa Quindi se mi stai sentendo Turbine Gemelli È una carta veramente Molto forte da utilizzare Se poi prendi Le nostre build Sei praticamente a posto Perché pensiamo a tu E le implementiamo già Guardate guardate l'avversario Che ha messo Eppuratore della radianza Aveva nella mano Ce ne può essere solo uno Sconto ad armi pari Con cui faceva piazza Pulita di questa roba Scudo specchio lunare Cioè Praticamente O chiudevo in questo turno O non chiudevo proprio Quindi Carbon Call Con cui ho rievocato I bellissimi mostri Che fortunatamente Non aveva rimpiazzato Con sconto ad armi pari Ho evocato anche Topazio A questo punto Cosa è successo? Ho evocato Dragorco Baleno Con l'effetto ho staccato E ho distrutto Quindi bandito Grazie a puratore della radianza Il ponte Arcobaleno del cuore Perché in battle face Mi serviva ad andare Ad attaccare pesantemente Fortunatamente Prima del tempo Guarda questo mazzo Che bellezza È equipaggiato Per tutte le situazioni E ti fa Sempre avere sul terreno I mostri che ti servono Oltre a darti Con certezza La vittoria in mano Poi bisogna vedere La sideistica Bisogna andare a vedere Anche delle altre robe Ma quella approfondibile Nel gruppo dei compioni over E soprattutto Ti andiamo a dire a noi Tutto quello che ti serve Iscriviti Clicca sulla campanellina Noi ci vediamo la prossima volta E come sempre Stay over Stay over Stai sempre super Oltre